Benvenuti nel gossip di Mr. Joy. Prima di iniziare il video iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime novità. Grazie. Chiara asciuga le lacrime. Oggi vi porteremo in un viaggio introspettivo, svelando i momenti di profonda emozione che hanno plasmato l'animo di Chiara. È il momento di svelare cosa si cela dietro le quinte di un evento che ha toccato le corde più sensibili del suo cuore. La ferita è stata più profonda di quanto avessi mai immaginato, afferma Chiara con sincerità, gli occhi ancora riflessi di quel sentimento. In questo capitolo speciale, condivideremo con voi il suo viaggio attraverso un momento di vulnerabilità straordinaria. Ho chiesto a lui di essere presente come un semplice spettatore, di condividere quell'istante come uno sguardo dentro di me, e non come un'esibizione, mi ha ferito più di come immaginavo. Rivela, riferendosi al bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Il sostegno instancabile del terapista che cammina al suo fianco, sia per lei che per suo marito, ha reso possibile questa evoluzione interiore. In questo percorso ho scoperto nuove profondità e ho rafforzato legami importanti, ammette Chiara con gratitudine. Situazioni come queste ci rammentano quanto sia cruciale avere un compagno di viaggio che ci sostenga e ci guidi quando ne abbiamo più bisogno. L'intera community di Chiara è con il fiato sospeso, in attesa di un evento straordinario. Segnatevi la data, il 14 settembre sarà l'occasione per tutti voi di partecipare a questa esperienza unica, quando finalmente la puntata speciale andrà in onda su Prime. Sarà l'opportunità di vedere Chiara in una luce completamente nuova, scoprendo il suo mondo interiore e la sua autenticità. Non perdete l'occasione di fare parte di questo momento significativo nella vita di Chiara. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e per esplorare emozioni autentiche. Se ti è piaciuto il video lascia un mi piace. Grazie.